Per adesso le nostre capacità ci consentono di mettere a disposizione 4.000 tonnellate di spazi per l'organico e 3.000 per i rifiuti ingombranti. Questo corrisponde grossomodo a un 400 camion, compattatori per l'organico e a un 300 walking floor per gli ingombranti. Metteremo anche a disposizione 4 persone, 4 ispettori ambientali della nostra società controllata gestione ambientale. All'impianto di San Zeno arriveranno così tonnellate di rifiuti dalle zone alluvionate. L'ondata di maltempo che ha violentemente colpito i comuni tra Firenze, Prato e Pistoia provocando vittime e danni enormi ha anche messo fuori uso alcuni dei principali impianti di trattamento e rifiuti della Toscana oltre a comportare una produzione eccezionale di rifiuti ingombranti. Il comune di Arezzo tramite AESA Impianti ha così messo a disposizione la struttura per lo smaltimento da qui fino alla fine dell'anno. Tra i danni alla fine del Salmo oggi si tratta di fare in modo di poter smaltire tutta quella grande quantità di rifiuti che deriva dagli allagamenti nelle cantine, nei magazzini, in tutti quei luoghi dove sono arrivate le acque, dei corsi d'acqua che hanno esondato. Ed è un grosso problema, un problema che abbiamo visto a difficoltà di soluzione all'interno della Toscana per cui si prevedono di dover mandare fuori dalla Toscana una parte significativa di questi rifiuti. Allora Arezzo tende una mano, cioè noi abbiamo un impianto modello, un impianto che funziona, che ha ancora spazi per poter accogliere una parte dell'organico e dell'indifferenziato che è stato prodotto durante il periodo dell'alluvione. È molto importante sottolineare che questi impianti sono strategici nazionali e hanno quella ridondanza, quella capacità appunto sussidiaria proprio quando succedono queste cose e che ricorrere all'utilizzo di impianti di questo tipo va comunque anche ad attenuare quelli che sono i gravissimi impatti ambientali che purtroppo queste situazioni creano. Infine l'invito e l'appello del sindaco ai suoi concittadini. Di ridurre per quanto gli riuscirà la produzione di organico e di indifferenziato per dar spazio all'arrivo di questi rifiuti che vengono dall'area fiorentina. Grazie a tutti.